bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re della ristecancelito1 farò la recensione di un film del 1960 alle 10 luni di miele di barba blu per risolvere i suoi problemi finanziari barba blu escogita un brillante sistema corteggia ricche vedove le convince a nominarlo unico erede per poi ucciderle e di genere thriller la durata è un'ora e 32 minuti il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura il regista è Wully Wilder la regia è buona bravo regista l'attore è George Sanders bravo attore nel film anche Corinne Calvet, Patricia Rock, Gene Kent, Ingrid Hafner, Selma Vaz-Diaz, Paul Witschun, Jones, Dino Galvani, Maxine Audley, John Gabriel Harold Behrens, Peter Elling, Robert Rietti, Greta Gint, George Colour, Sheldon Lawrence, Ian Fleming, Kate Piot, C, Daniel Warren, Milos Peber, Jack Melford, Mark Singleton, George Melford. Saluto Anna, Samobrina, Cita, Liciotola, Markolf, Pia, Il Trio Medusa, Michele Tregigliani, Favij, Picchiatore, E-Telifin122, MrBikeTV, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.